sei pronto a scoprire la storia di emmanuel lo il ballerino iconico del talent show amici quest'uomo ha passato momenti difficili ma alla fine ha ottenuto il successo che merita insieme all'amore di georgia emmanuel lo è un artista poliedrico cantautore ballerino regista e coreografo ha dovuto lottare duramente per arrivare dove è oggi ma non ha mai perso la determinazione in un'intervista rilasciata a verissimo ha raccontato la sua storia con sincerità e coraggio da ragazzo era timido ma sul palco si trasformava in un vero performer il sostegno del padre che faceva due lavori per mantenerlo è stato fondamentale per la sua crescita la passione per la danza lo ha portato a dedicarsi completamente a questo mondo dal 2016 fa parte dello staff di amici una presenza costante nel programma ma non è solo sul lavoro che ha dato il massimo anche nella vita privata ha vissuto momenti intensi la sua storia d'amore con georgia è conosciuta da tutti una relazione lunga vent'anni fatta di alti e bassi emmanuel e georgia hanno vissuto ogni fase possibile di una coppia momenti belli e difficili separazioni e riavvicinamenti hanno affrontato insieme le sfide capendo che le differenze tra loro sono un valore aggiunto alla loro relazione dopo periodi di pausa e riflessione si sono ritrovati e si sono innamorati di nuovo oggi sono felici insieme consapevoli delle cose importanti che li legano la storia di emmanuel lo dimostra che con impegno e passione si possono superare qualsiasi ostacolo non importa quanto tempo ci voglia alla fine il successo arriva per chi non molla mai l'amore e la dedizione sono le chiavi per realizzare i propri sogni come ha fatto emmanuel con il suo percorso artistico e sentimentale se ti senti demotivato o ti sembra che le cose non vadano per il verso giusto ricorda la storia di emmanuel lo la determinazione e la costanza sono le armi vincenti per raggiungere i tuoi obiettivi sia nella vita professionale che in quella privata si sempre te stesso non temere i momenti difficili e credi in te stesso solo così potrai ottenere ciò che desideri emmanuel lo è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare alla realizzazione dei propri sogni lavora duro non perdere mai di vista i tuoi obiettivi e non smettere mai di credere in te stesso il successo e l'amore sono alla portata di tutti basta crederci e lottare con determinazione sii come emmanuel lo un vero esempio di coraggio e perseveranza grazie a tutti